Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che abolisce l'obbligo di certificazione per la riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza, ad illustrarla il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del PD, che ha spiegato come rientri tra gli obiettivi della semplificazione delle procedure amministrative e come la richiesta di tale certificazione non sia più supportata da motivazioni scientifiche. Sostegni ha fatto presente inoltre che in Italia sono già 11 le regioni che hanno eliminato la certificazione per la riammissione a scuola e che in caso di malattie infettive resta in vigore l'obbligo di denuncia da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri alle autorità competenti, così come gli obblighi di certificazione per il rientro a scuola. Su questo ci sono due passaggi importanti, uno di un gruppo interministeriale fatto addirittura all'inizio degli anni 2000 e poi c'è stato un passaggio nell'organismo toscano del governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia, la scienza ormai è evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia e quindi il certificato dopo 5 giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a rieggiare le classi, questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione delle diffusioni delle malattie e quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza. Quindi per un principio di semplificazione e dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata è in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della comunità scientifica e dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente e l'ultima cosa sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale come abbiamo visto per il Covid purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa, in quel caso la disciplina vigente permette di rientrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. Sì, con soddisfazione, una storia che viene da lontano, siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca presidente della Commissione Sanità, l'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione, poi sappiamo c'è stato il Covid e quello che c'è stato, oggi finalmente la regione toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo 5 giorni di assenza senza certificati medici e senza un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo, delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di vista ovviamente dei bambini, qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Beh sì, credo che sia in linea con il cambio della medicina perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tanto è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia che sono oberati in questo momento di carenza di medici di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. Per esempio io credo che un medico non debba fare un ambulatorio fatta di ripetizione di ricette oppure di scambio di quello che dicono gli specialisti, ma debba avere un suo proprio amor, un amor proprio della professione e quindi se manda lo specialista, allo specialista poi competa quello di continuare il percorso. In fin dei conti un medico di medicina generale, ora che c'è anche la specializzazione in medicina generale, credo che sia un medico a tutto tondo e non soltanto un passacarte. Quindi bene che l'ospedale faccia l'ospedale per acuti, bene che il medico faccia il collettore delle problematiche e che quindi tutta la parte geriatrica, la parte di cronici venga indirizzata a strutture deputate a quello e quindi ecco che questo piccolo atto che bene o male tutti noi in famiglia conosciamo come un qualche cosa anche quando andavamo in vacanza in settimana bianca, fatti fare il certificato dal dottore. E poi in realtà, in realtà è veramente una cosa banale perché io mi ricordo e concludo quando ho dato pediatria nel libro c'era scritto dai 10 ai 12 giorni di incubazione e il professore mi faceva, sì è vero però poi lui che fa? E beh dopo c'è la parte esantematica, io parlo del morbillo, cioè il morbillo si vedevano tutte le postulette, a quel punto passate le postulette il bimbo non era più assolutamente, come dire, contagioso, quindi è inutile che lo scrivesse il medico. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che come è stato detto anche all'interno della commissione è obsoleto, infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole, naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione per contrastare la diminuzione dei servizi bancari e postali nelle aree interne, rurali, montane e insulari della regione. In Toscana infatti 20 comuni non hanno più lo sportello e 44 ne hanno uno solo. La proposta di risoluzione impegna dunque la Giunta ad attivarsi a livello nazionale per contrastare il fenomeno adottando azioni specifiche per contrastare la chiusura degli sportelli e garantire parità di diritti nell'accesso ai servizi per chi abita in quei territori. Il tema della desertificazione bancaria, cioè della chiusura degli sportelli bancari, è una questione che impatta in modo duplice sul territorio. È quello che è emerso nelle audizioni che abbiamo fatto in Commissione. Non c'è solo il tema molto rilevante del fatto che scompare uno sportello bancario e che quindi molti servizi, soprattutto per le persone più anziane o per coloro che hanno difficoltà di accesso ai servizi digitali, scompaiono. Ma c'è anche il fatto dimostrato dai dati che la diminuzione degli sportelli sta comportando anche una diminuzione degli affidamenti in termini di credito alle piccole e medie imprese di questi territori. Noi abbiamo il 25% dei comuni della Toscana che sono o senza sportello bancario o con uno solo di sportelli bancari e se pensiamo a quello che significa in termini di servizi, in termini di difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese, capiamo quanto questo tema sia rilevante. Abbiamo una bella eccezione in questo panorama, il sistema del credito cooperativo. Il 39% degli sportelli del credito cooperativo in Toscana sono nei territori delle aree interne e montane. Però se non c'è una revisione a livello europeo di alcuni parametri che vengono applicati in modo molto rigido, chiaramente questi istituti che per loro vocazione sono a maggior contatto con il territorio rischiano di essere penalizzati e di dover essere costretti a una contrazione degli sportelli in virtù del rispetto di alcuni parametri. Quindi la richiesta della Commissione alla fine di queste audizioni è duplice. Da una parte sostenere esperienze come gli sportelli mobili che alcune banche stanno mettendo in atto per coprire il territorio regionale, dall'altra la richiesta al Governo che in sede europea vengano introdotti i criteri di proporzionalità perché non si può applicare al grande gruppo bancario gli stessi identifici criteri di una banca di credito cooperativo e soprattutto non si può pensare che i costi dipendano solo e esclusivamente dagli sportelli. Continua il filone dell'adesione unanime alle proposte di risoluzione delle aree interne. Per quanto riguarda il rafforzamento del sistema bancario delle aree interne abbiamo dato un voto diciamo favorevole però con alcune precisazioni. La prima è che la Commissione stessa nel momento in cui Poste Italiane annunciava il piano Polis con un investimento di 800 milioni in cinque anni proprio su tutti quei comuni che sono all'interno anche delle aree interne, si parla di 7 mila comuni in Italia, fa un appello sostanzialmente un po' incisivo ma che deve tener conto del fatto che il sistema bancario per radicarsi nelle aree interne deve necessariamente fare in modo che sia la politica probabilmente a riportare quelle condizioni necessarie al credito per attestarsi. Mentre Poste Italiane oggi probabilmente è l'interlocutore principale della maggior parte dei residenti, persone che hanno un'età molto avanzata per quanto riguarda tutta la tipologia di servizi che questo piano Polis sta annunciando. Per quanto riguarda invece il FESR, abbiamo anche qui dato il pieno mandato e l'adesione alla proposta di risoluzione che impegna finalmente la Giunta a destinare quote rilevanti del FESR, però abbiamo chiesto anche al Presidente Nicolai ora di essere di parola, così che la Giunta regionale possa sostanzialmente veramente tener fede agli impegni che oggi tutta l'Aula ha votato all'unanimità. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione di Italia Viva che chiede venga modificata la disciplina delle aree di sosta per camper ed autocaravan e che sia prevista per tali aree una normativa specifica che le distingua dai campeggi e dai villaggi turistici. Il testo fa riferimento al decreto del Presidente della Giunta del 7 agosto 2018 che stabilisce l'applicazione alle aree di sosta destinate ad ospitare auto e caravan per pochi giorni di requisiti obbligatori. Requisiti che si legge nell'atto consigliare equiparano sostanzialmente le aree di sosta ai campeggi, finendo per disincentivarne la diffusione. Tra i requisiti imposti sono citati l'obbligo di sorveglianza 24 ore su 24, gli impianti di approvvigionamento idrico e la presenza di installazioni igienico-sanitarie di uso comune. Un atto veramente importante perché il settore produttivo del camper in Toscana è un sistema produttivo importantissimo soprattutto nel Senese, nella Val d'Else e non solo. È a sua volta non soltanto un grande motore economico ma una grande forma di attrazione di turismo. Semplificare le normative che riguardano le aree camper è evidentemente un'incentivazione importantissima. Oggi siamo di fronte a delle normative che in alcuni casi, rispetto all'organizzazione di un'area camper in un comune, si accumulano delle previsioni regolamentari similari a quelle dei campeggi estivi dove si va a fare le vacanze estive. Avere delle aree sosta invece per i camper con delle formule molto più leggere consente un turismo diffuso di un sistema che può consentire ai comuni non soltanto di avere dei finanziamenti da parte della giornata in Toscana ma di incentivare il turismo in camper, di diffondere le aree sosta e dare una risposta importante a quello che è un turismo in grande crescita della nostra regione. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con l'astensione del Movimento 5 Stelle la legge che istituisce l'albo regionale degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea di 5.382.000 euro. Il registro sarà vincolante per tutte le agenzie dipendenti dalla Giunta e per gli enti del sistema sanitario ma potrà anche essere utilizzato dal Consiglio regionale e dagli enti locali. Un atto normativo importante che va nella direzione auspicata dalla normativa nazionale è dettata in collegamento con il PNRR di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Anche la regione toscana a livello di Giunta si dota quindi di un elenco di operatori economici dal quale attingere per le procedure negoziate di affidamento di lavori, servizi e forniture il tutto chiaramente in armonia con la disciplina nazionale del codice degli appalti. Un'opportunità importante che va nella direzione della semplificazione e che diventa beneficio non soltanto della Giunta regionale e della regione in quanto tale ma anche degli enti derivati compresi quelli del servizio sanitario regionale e anche dello stesso Consiglio regionale di tutte le amministrazioni aggiudicatrici presenti nel territorio della regione toscana. Non siamo particolarmente convinti per quanto riguarda la possibile perimetrazione che è stata fatta dal Consiglio, sicuramente possono essere un incentivo, una velocizzazione però delle volte è necessario anche che ci siano tutti i canoni e tutti i criteri e sicuramente è qualcosa che va anche approfondito.